Citando uno dei maggiori esperti e responsabili nelle strategie governative per combattere il Covid-19, Pierpaolo Sileri, che ricopre un ruolo politico non proprio sottovalutabile, visto che è il vice ministro alla salute ed è anche un medico, si può dire che chi è vaccinato entro breve tempo potrà tornare a vivere una vita normale, esattamente come prima della pandemia o quasi. Che vuol dire? Basta limiti numerici al tavolo del ristorante, niente tamponi per viaggiare, stop all'uso di mascherine in ufficio o in casa o con gli amici. Insomma, secondo il vice ministro Sileri si può fare qualche passo in avanti più deciso verso la completa libertà. La dichiarazione è sostenuta anche dalle buone notizie che arrivano sul fronte vaccinazione anti-Covid. L'Italia per la maggior parte è in zona gialla e in alcune regioni in zona bianca. Oggi se ne sono aggiunte quattro. Nelle aree gialle poi il coprifuoco da oggi inizia alle ore 24. Tra l'altro anche il Piemonte è giallo ed entrerà in zona bianca tra una settimana. Oggi l'unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato che non si è registrato nessun decesso di persone positive al test del Covid-19. Questo non accadeva dal 9 ottobre del 2020. Da oggi poi, 7 giugno, è operativo l'hub vaccinale al centro J Medical a Torino. Il nuovo punto, coordinato dall'ASL, città di Torino, annesso all'Allianz Stadium, garantirà la somministrazione di 100 vaccini al giorno. Il dottor Luca Stefanini, direttore generale del J Medical, ha detto «Abbiamo aderito al piano vaccinale dell'ASL, città di Torino, rendendo disponibile il nostro centro per contribuire a fornire questo importante servizio per la popolazione in un momento in cui è fondamentale procedere con la vaccinazione di massa per uscire il più in fretta possibile dalla pandemia». E poi ancora, l'assessore regionale alla ricerca applicata a Covid, Matteo Marnati, ha dichiarato «La campagna vaccinale in Piemonte prosegue a ritmo serrato, in linea con gli obiettivi prefissati». E questo anche grazie alla collaborazione di soggetti privati scesi in campo al fianco delle ASL nella lotta al virus. Unire le forze e fare squadra, la formula è vincente per raggiungere l'obiettivo, che resta prioritariamente la salvaguardia della salute dei cittadini. C'è ancora da dire che l'Italia tutta ha recuperato molto del ritardo rispetto ai paesi europei più virtuosi. Vaccini a ritmo di record, un italiano su 5 oggi è in zona bianca e si avanza con 600.000 dosi somministrate al giorno, in pratica 6 milioni ogni 10 giorni, che vuol dire che a inizio luglio tra i 30 giorni saranno altri 18 milioni di italiani vaccinati, che si aggiungeranno ai 38 milioni di dosi di vaccino somministrate già nel nostro paese. Tra questi c'è un nuovo sorprendente elemento che fa ben sperare, l'alta adesione dei giovani, gli adolescenti di tutta Italia, alla vigilia delle vacanze estive, tra tutte le voglie di ritorno alla normalità, c'è anche quella dei giovani di voler tornare a frequentarsi nei posti più amati, come la discoteca. C'è infatti il progetto di togliere di vieti, di frequentare le discoteche. L'importante è che sia stato completato il ciclo vaccini per ottenere il Green Pass e quindi entrare in discoteca. E questa possibile ripartenza delle discoteche potrebbe già accadere a luglio, anche perché il settore è fermo da più di un anno ed è al limite della rivolta.